senza uscire di casa conoscete il mondo senza guardare fuori dalla finestra potete vedere le vie del cielo più andate lontano meno conoscete perciò il saggio non va altrove eppure conosce non vede eppure sa definire non si affanna e tuttavia porta a termine il suo compito vivere essendo vi incoraggio a cambiare la convinzione che lo sforzo e la lotta sono strumenti necessari per raggiungere il successo nel 47esimo capitolo Lao Tzu suggerisce che queste idee vi allontanano dall'esperienza di armonia e pienezza offerta dal Tao vivere essendo piuttosto che cercando di sono due punti di vista differenti come dichiara Lao Tzu potete vedere e ottenere di più senza guardare fuori dalla finestra come è possibile vediamo un esempio per chiarire questo dilemma mi piacerebbe che concentraste tutta la vostra attenzione su una delle più grandi creazioni di Dio mi riferisco al vostro cuore che batte sempre misterioso grumo di arterie vene muscoli e sangue che portate con voi dovunque andiate esso mantiene continuamente il suo battito senza che voi cercate di farlo battere anche senza la vostra cosciente attenzione lavora perfettamente allo stesso modo dell'oceano il suo battito continuo infatti ricorda il moto delle onde sulla superficie del mare il vostro cuore davvero una meraviglia poiché è indispensabile alla vita stessa e la vostra essenza l'organo del petto è un esempio per capire e applicare la lezione del vivere essendo il vostro cuore porta a termine il suo compito la vostra vita senza andare altrove senza guardare fuori dalla cavità toracica e affannandosi mentre state seduti e leggete queste parole esso vi mantiene in vita semplicemente vi fa essere e voi neppure ve ne accorgerete vorrei che pensaste a tutto il vostro essere come a un cuore che sa già esattamente cosa fare in virtù della propria natura questo significa che voi non dovete andare da nessuna parte per conoscere il mondo perché voi siete già il mondo nel momento in cui tentate di controllare il battito del vostro cuore vi rendete conto della futilità di un tale sforzo cercare di aumentare lo sforzo non farà nessuna indifferenza poiché il vostro cuore agisce per la sua naturale connessione del Tao che si limita a non lasciare nulla di incompiuto nel libro A Warrior Blends with Life A Mother Thao Michael Latorra lo sottolinea commentando questo capitolo Come il saggio dei saggi ha sempre saputo la radice dell'essenza dell'essere è il cuore specialmente nel meccanismo del battito cardiaco da qui la radiosità dell'essenza dell'essere sole sale a illuminare la testa Questo meccanismo esiste a prescindere da qualsivoglia tecnologia Voi già lo possedete e attraverso sentimenti profondi piuttosto che emozioni superficiali potete connettervi ad esso immediatamente Il supremo atto di illuminazione non implica necessariamente l'azione Dunque, ora sapete che la condizione paradossale che Lao Tzu descrive in questo capitolo non solo è possibile ma avviene veramente dovunque in questo momento i miliardi di cuori umani Inoltre, tutto ciò vale per i cuori di tutte le creature così come per il meccanismo biologico di ogni albero fiore ci spule persino di ogni minerale sulla terra E questo è soltanto uno dei pianeti dell'universo che contiene così tanti corpi celesti Contarli va talmente oltre le nostre capacità che non possiamo nemmeno concepire un calcolatore per intraprendere una simile impresa Il ventunesimo secolo è spesso chiamato l'era dell'informazione Viviamo un'epoca in cui esiste una disponibilità di dati molto maggiore rispetto a quanto sia avvenuto in qualsiasi altro momento nella storia dell'umanità E basta un piccolo chip di un computer per contenerne una quantità enorme Non serve essere maghi dell'informatica per constatare che i nostri sforzi ci hanno portato davvero alla conoscenza di molti più dati che nel passato La questione che ora si presenta è quella del rapporto tra l'informazione e la conoscenza Intesa come sapienza e non come un insieme di nozioni o di dati Analizziamo che cosa significa era dell'informazione Quando siete in forma, nel vostro corpo e nel mondo materiale, siete ricompensati con informazione Ma provate a muovervi oltre la forma Trasformati in spirito e riceverete ispirazione Perciò l'informazione non è sempre conoscenza E la conoscenza non è sempre sapienza La sapienza vi connette al vostro cuore nei momenti del risveglio E il Tao all'opera Lao Tzu vi chiede di riconoscere la differenza tra l'affarnarsi per agire di più E l'essere nel mondo che è già completo di per sé Vivendo in questa prospettiva di saggezza o di connessione con il Tao Il mondo appare molto diverso Siete un singolo battito dell'unico cuore che è l'umanità Non dovete guardare fuori dalla finestra o andare altrove Dovete semplicemente essere Esattamente come permettete al cuore di battere Questo era un concetto complesso 2500 anni fa E mi rendo conto che possa essere difficile da afferrare Ma dovete farlo In un mondo pazzo Per l'informazione senza la grazia del Tao Siete un battito del cuore che fa scorrere liberamente la saggezza del Tao Semplicemente essendo Per mio tramite Lao Tzu vi sprona ad agire in questa nuova consapevolezza E a mettere alla prova i suoi suggerimenti Cominciate a fidarvi del vostro cuore Ascoltando il vostro battito cardiaco Potete chiaramente riconoscere il Tao Che mette in pratica il paradosso del non agire E allo stesso tempo non lascia nulla di incompiuto I vostri sentimenti più profondi Sono il riflesso di ciò che dice il vostro cuore Non dovete fare nulla per attivare questa profondità interiore Lasciate solo che il cuore vi parli Cominciate ad osservare e ad apprezzare Il suo ritmo incessante e silenzioso E qualsiasi cosa sia fornire l'energia Per farlo continuare Fate sì che la sua presenza nel petto Rappresenti per voi un costante richiamo Del Tao all'opera Fatevi del vostro sesto senso Che è sempre con voi Fidatevi del vostro sesto senso Che è sempre con voi La conoscenza interiore esiste Indipendentemente dal vostro andare altrove È presente anche quando tenete gli occhi chiusi E state immobili seduti Questo non significa necessariamente Dover diventare dei pantofolai Piuttosto lasciatevi guidare Dalla stessa sorgente Che fa girare i pianeti Intorno al sole E siate certi che essa Vi dirigerà perfettamente Senza la vostra intromissione Fate esperienza della vostra creatività innata Mentre osservate con stupore Come ogni cosa si sistema con ordine Proprio come l'acqua corrente Che non ristagna mai Sarete mossi da una forza della natura Che cerca dentro di voi Il proprio compiersi E senza il bisogno di interferire Da parte vostra Potete stabilire il contatto Con questa conoscenza Attraverso la pratica della meditazione Ora mettete in pratica il Tao Oggi trovate O fate un disegno Che rappresenti un cuore E trascorrete del tempo A contemplarlo Come un richiamo del Tao Che lavora senza sforzo Dentro la cavità toracica A un certo punto della giornata Lasciatevi guidare dal Tao A fare qualcosa di creativo Che proviene da dentro Come dipingere Scrivere una poesia Fare una passeggiata Nel parco Iniziare Un progetto personale O qualsiasi altra cosa Lasciatevi guidare Senza dover andare altrove In ogni caso Poi portate questa magia del Tao Più di frequente In tutti gli aspetti della vostra vita